Bene amici, noi è iPhone 15 Pro Max, non ve l'ha ordinato il dottore di comprarlo e mi rivolgo a tutti quelli che dicono non è cambiata una mazza. In realtà tutte le modifiche che ci sono state, dalla scocca in titanio alla USB tipo C al nuovo processore, sono funzionali e ho un utilizzo professionale sicuramente migliorato rispetto ai precedenti. Se ritenete che non si è cambiato una mazza probabilmente perché usate Whatsapp, Instagram eccetera eccetera eccetera. Allora va benissimo o un 12 o un 13, chi ve ne ha fatti un 15 Pro Max? Ma andiamo a scoprirlo insieme nella recensione completa. Ma partiamo dalla confezione, c'è dentro pochino ormai in stile Apple ma non solo, adesivino qua per togliere la sim, spillette, cavodati, telato, USB-C, USB-C devo dire fatto bene. Tra l'altro una cosa, le versioni europee di iPhone hanno la sim fisica più la eSIM, eSIM che è comodissima, sono stati negli Stati Uniti, ne ho scaricata una per 5 giorni, 15 euro, traffico dati illimitato top, ma le versioni americane hanno solo eSIM, quindi niente sim fisica. E poi volume, tasto azione, action button, poi ve lo racconto e vi dico cosa si può fare. Tipo C, esce il video, 4K60, 10 gigabit per secondo la velocità di trasferimento dati, ma attenzione non con il cavo in dotazione, 480 megabit per secondo con questo cavo, ma se già utilizzerete un cavo in dotazione con il MacBook Pro o un cavo USB-C3 farete i 10 gigabit, ovviamente audio stereo, accensione, spegnimento, scocca. Allora, scocca rispetto al telefono dello scorso anno che era in acciaio liscio con i bordi meno smussati, quindi a 45 gradi, questo invece è raccordato un po' più stondato. Sicuramente rimangono meno le impronte digitali, bello il grip comunque, anche se qua è stondato, forse l'acciaio lo preferivo dal punto di vista del design, ma dal punto di vista della praticità preferisco questo titanio, oltre al fatto che lo alleggerisce veramente tanto, che poi non è tantissimo 20 grammi, ma tutte le persone che hanno il Pro Max e 14 hanno preso in mano questo 15, e ho detto, porca miseria quanto è più leggero. 8,25 mm lo spessore cam, che ovviamente come al solito sporgono un po' troppo, ma è un compromesso, quando arriveranno cam super qualitative nello spessore del telefono, vuol dire che la tecnologia parfatta passi avanti. IP68, 6 metri di profondità, 30 minuti. Secondo me un po' meno belle le colorazioni, questa è titanio naturale rispetto all'anno scorso, perché sono un po' più smortine, il viola dell'anno scorso non si batte. Tra l'altro fusione con una scocca in alluminio riciclato, e questa è veramente una flexata parte di Apple, da un punto di vista ingegneristico molto difficile unire questi due materiali. Always on personalizzabile, con la possibilità, vedete, di andare a rispondere direttamente dalla pagina delle notifiche, ovviamente tutto personalizzabile, e poi le fotocamere. 48 megapixel la principale, più o meno come l'anno scorso, il software però è cambiato, poi ve lo racconto, 12 megapixel la tele, 5x 12 megapixel la ultra wide. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, SOS satellitare, ovviamente. Batteria, allora, devo dire, uguale a quella dell'anno scorso. 4422 mAh, ecco qua una critica, perché il controller della carica della batteria è rimasto lo stesso, quindi la carica della batteria rimane a 20-25 watt, più o meno, insomma, carica il 50% in 30 minuti. Non è velocissimo, ma 100% riciclato il cobalto che c'è dentro la batteria, e 100% rame riciclato per quanto riguarda tutte le parti in rame. L'altra novità rispetto all'always on display è questo, lo stand by mode. Quando si va a attaccare in verticale su uno stand con ricarica wireless, entra in questa modalità che secondo me è bellissima, completamente personalizzabile con i widget, di notte in metà tutto rosso per non rompervi le scatole, un carica wireless, tra l'altro carica 15 watt. Con quella modalità, la sera sul comodino o di giorno in ufficio, è veramente la morte sua. Insomma, ha fatto molto bene l'always on display. Ok, la 17, quindi il nuovo processore, spinge di più, ma consuma un po' di più, nel senso, no, allora, non è vero. 3 nanometri, processo produttivo, primo telefono al mondo, dovrebbe consumare meno. In realtà Apple ha deciso di farlo andare un pochino più veloce, soprattutto i core di potenza, perché ci sono dentro core di potenza e core invece che consumano meno per le operazioni quotidiane, quindi consuma uguale, ma va più veloce. Poi, la durata della batteria ottima, vi faccio vedere qualche screenshot da dire una cosa, che è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma in maniera positiva, nel senso, ci sono altri telefoni, quando dico Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che a volte scaldano totalmente a caso, anche quando non si sta facendo niente. Lui scalda, sì, ma solamente quando lo si mette sotto stress con applicazioni pesanti. Questa è la mia giornata tipo 28%, alle 23.45, 6 ore e 26 di uso con questo tipo di uso, quindi Instagram, Waze, Google, Telegram, eccetera, eccetera, e anche con un po' di video, quindi si comporta decisamente bene lato fotocamera. Poi andremo a vedere le fotografie e non c'è purtroppo la carica wireless inversa, però la possibilità di andare a settare la carica massima all'80%, il che ha tanto senso per la durata la batteria, diciamo, nel tempo. Il display è lo sterzo, 6,7 pollici, poco da dire, ottimo, 2000 nits di luminosità massima, leggermente rimpiccioliti i bordi, ma ragazzi, se lo guardate così, veramente non ce ne se ne rende conto, mentre vi parlo un po' di parte telefonica. Il dialer. Allora, ok, facciamo una cosa, vi faccio vedere prima di tutto la novità, questa è la novità di iOS 17, quindi non tanto di questo 15, ma la possibilità di personalizzare la schermata delle persone che ci chiamano con avatar, con memoji, con foto, con dei monogrammi, eccetera, eccetera, così quando arriva la chiamata da queste persone, diciamo che il design è un po' diverso. Non lo stravolgimento, cosa avrebbe voluto? La ricerca rapida in rubrica mannaia a Apple che non l'ha ancora messa. Vabbè, comunque qualità audio top, si senta veramente bene. Penso sia uno dei viva voci più potenti che ci sia in circolazione, quindi decisamente molto molto bene. E poi iOS 17, nativo, più facile condividere cose con l'app messaggi, vado per esempio, andiamo in un, ah sì dai, in un contatto che posso farvi vedere, quando schiacciamo il più, oltre alla possibilità di condividere più facilmente tutta questa serie di cose, ah mannaggia, giustamente non è un contatto che ha iMessage, quindi non posso farvi vedere questa cosa. Vabbè, utilizzo Chiara e diciamo che vado a oscurare il numero di telefono, guarda quando faccio più, c'è la possibilità di fare il tutto bene. Una funzione secondo me fantastica, praticamente. Non è ancora disponibile con Chiara, perché Chiara non ha ancora aggiornato a iOS 17, ma settando questa cosa, il telefono automaticamente, quando arriveremo a una determinata posizione che gli abbiamo settato, manderà una notifica al proprietario, che dirà al proprietario, e ricordi di mandare il tutto bene a casa, e per chi ha figli o genitori anziani, vi assicuro che è una killer feature. Poi ci sono altre novità su messaggi, lo standby ve lo faccio vedere, nuovi widget, ma soprattutto una tastiera, che è precisissima per quanto riguarda il feedback della vibrazione, è migliorata finalmente la correzione, ma soprattutto ha la possibilità di un mix di inserimento testuale e vocale. Vedete? Io posso inserire così, oppure posso iniziare a parlare. Questa l'ho trovata veramente una killer feature, soprattutto quando si è in macchina, magari c'è una parola un po' strana, oppure dei simboli che bisogna inserire, allora mi fermo solo quei tre secondi, inserisco il singolo, e poi riparto invece di fermarmi per scrivere, ma si usa la dettatura vocale. L'ho trovata comodissima. Già che siamo qua, vabbè, ma che vi faccio vedere a fare Instagram, funziona perfettamente, Facebook, tritico, eccetera, eccetera, feed della vibrazione, ok, alla grandissima. Ciao Fiona, anche tu eri all'Apple, Cupertino, è stato un bel viaggio, e niente da dire da questo punto di vista. Poi lo stresseremo con altre applicazioni, vibrazione top, questo ve l'ho già detto, Ray tracing hardware nella GPU. Ho la possibilità di provare in anteprima, Resident Evil arriverà, forse fino a 2023, forse inizio 2024, ovviamente è ancora una super betona, ma raga, giocare con un Ray tracing, con una velocità, con una qualità di questo tipo, è veramente pazzesca. Poi ovviamente dovrei mettere un controller per evitare tutti i controlli qua, in sovraimpressione, però tantissima roba, adesso non posso perdermi qua nel gioco, ma veramente tantissima roba, questa capacità del processore, tra l'altro questo A17 getta le basi per il nuovo Apple Silicon M3, che poi vedremo nelle varianti Pro, Ultra, eccetera, eccetera, anche sui MacBook. Ovviamente quello che vi dicevo prima, quando si gioca a giochi pesanti, oppure quando si utilizzano, non lo so, Caption, CapCut, ma anche l'applicazione di Insta360, tutte quelle applicazioni un po' professionali che devono fare tanta elaborazione, ovviamente, consumo batteria, ovviamente un po' scalda, ma perché va ad attivare quei core di potenza, ed è giusto che sia così, vi faccio un parallelismo, ho una Ferrari, se voglio andarci forte, ci posso andare forte, ma consuma tanto, Stessa cosa, questo telefono, ci posso fare cose molto complicate, da un punto di vista computazionale, ovviamente consuma e scalda. Utilizzo quotidiano? Telegram, Whatsapp, applicazione della banca, Instagram, offerte.club, mi raccomando, scaricatelo e utilizzatelo, beh, no, non scalda assolutamente, e la batteria dura veramente tantissimo con questo tipo di utilizzo. Fotocamera, allora, anche qua ho tanto da dire. Prima di tutto, le lunghezze focali, con la cam principale da 48 megapixel, ovviamente stabilizzata, otticamente così come la zoom, si possono ottenere diverse lunghezze focali, dalla 24 mm, alla 28, alla 35, che sono quelle tipiche, di chi fa ritratti, o di chi fotografa. Con la 05 siamo sui 13 mm, la 2x a 48, la 5x arriva addirittura a 120 mm. Due cose voglio dirvi, con la cam 1x, si riescono a fare 24 megapixel, cioè scattando, anche quando fa pixel binding, per aumentare la luminosità, non va a combinarne 4 insieme di pixel, o meglio, sì, ne combina 2 a volte 4, ma grazie all'intelligenza del motore, della fotocamera, fa uscire foto a 24 megapixel, di gran qualità, poi le andremo a vedere, mentre con la 5x, si riesce a fare uno zoom, fino al 25x, il che non è assolutamente male, con le giri aperte di qualità, perché comunque va a fare, una interpolazione, i sensori sono da 12 megapixel, quello della grande angolare, e quello della 5x, però la 5x è veramente game changer, oltre a quello, nei video, allora, la cosa che mi è piaciuta tantissimo, è che in 4k 60, oltre a poter girare in ProRes, fa cambio tra tutte le cam, arriva al 15x, guardate, fino alla grande angolare, questa è una cosa, veramente super comoda, ma guardate con che fluidità, fa lo zoom, piccolo scattino qua, ma veramente nulla di che, e questa è una gran cosa, poi, una killer feature, per chi fa un utilizzo professionale, quindi ProRes, 4k 60fps, Dlog, quindi un file giganterrimo, con tantissime informazioni, poi per fare color correction, a posteriori, la tipo C, può essere utilizzata, per la registrazione in continuo, quindi qua posso attaccare, un hard disk esterno, un SSD, qualsiasi cosa, alimenta fino a 4,5 watt, e registrare, lì sopra, senza preoccuparmi, della memoria di iPhone, questo per chi fa, produzione di video, è veramente una grande cosa, altra cosa, la fotocamera, può comunicare direttamente, con un app per il Mac, per scattare, e avere subito, l'anteprima, della fotografia, proprio, sul computer, cosa comodissima, effetto cinema, a me non ha mai fatto impazzire, questo bokeh, un po' artificiale, che arriva fino al 4k, 30, e niente, direi che, andiamo a vedere le fotografie, tra l'altro, modalità ritratto, completamente rinnovata, grazie proprio al motore, della fotocamera, vado nell'album preferiti, che ho messo le foto, che volevo farvi vedere, e che è migliorata tanto, ma, proprio per quanto riguarda i video, allora, sono andato a vedere luna rossa, adesso qua vi sto mettendo dei pezzettini del video, ma, voglio far vedere, sì, ho preso un sacco d'acqua, perché pioveva, quando abbiamo fatto lo shooting, ma, questo particolare, guardate, prima di tutto la stabilizzazione, di questa cam, in questo, guardate in questo giro di camera, guardate che roba, pazzesco, guardate la cam, come è stabilizzata, ma, voglio fare un fermo immagine, esattamente qui, guardate, le goccioline, d'acqua, sul finestrino, guardate, che definizione, guardate che spettacolo, veramente, tantissima roba, e, altrettanta, tanta roba, per quanto riguarda, sia l'impermeabilità, perché abbiamo fatto questo camera car, dove, l'amico Leo, ha preso, secchiate d'acqua, ma, guardate che bello, perché sulla lente, l'acqua scivola via, e le riprese, anche con, condizioni atmosferiche avverse, vengono davvero, bene, 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 adesso perdo un po' di tempo, su questo aspetto, ma, essendo pro max, è per i pro, e quindi voglio raccontare, un pochino più, questo aspetto, e poi, foto, HDR, contro luce, venuta benissimo, questa fotografia, non l'ho fatta, in modalità ritratto, ma volendo, visto che quando si scatta, e il telefono riconosce, o animali, o persone, scatta anche le informazioni, in profondità, date dal sensore, e l'IDAR, si può fare un effetto bokeh, a posteriori, questo è un effetto bokeh, naturale, fatto con la, 5x, e anche la 5x, devo dire che scatta bene, la particolare, tra l'altro, è di non essere una 5x, periscopica, che perdono sempre un po' di qualità, un po' di luminosità, ma c'è dentro, un tetra prisma, quindi, un prisma, che fa allungare, fisicamente, la lunghezza focale, per arrivare proprio al 5x, nonostante la cam, sia piatta, e non a 90 gradi, rispetto al sensore, eccola qua, la foto, si, vedete che io posso andare, a cambiare, il bokeh di sfondo, e posso anche, decidere cosa mettere a fuoco, se lo sfondo, oppure, la parte anteriore, ovviamente così è esagerato, magari un bokeh di mezzo, potrebbe starci bene, e questo funziona, anche con, la cam anteriore, vi faccio vedere, qualche altra foto, sempre, prese qui, a Barcellona, bellissima, tra l'altro, location, ero a Sitges, controluci, tramonti spaziali, e qua, un'altra prova, dello zoom 5x, allora, grande angolare, 1x, questa è la 35 mm, questa è, se non sbaglio, la 5x, questa è la 15x, guardate che bello scatto, incontruce, stessa cosa, grande angolare, 5x, ottici, e poi, anche di notte, devo dire, belli scatti, con la grande angolare, con la 1x, e con la 5x, ma veniamo al giorno di luna rossa, cioè, guardate, luna rossa è quel puntino, laggiù, piccolissimo, guardate che zoom, questo è, l'1x, questo è il, 5x, questo è il 15x, il 25x, e guardate, posso ancora, andare a zoomare con le dita, e la qualità rimane, notevole, probabilmente, si sarebbero potuti, in Apple spingere al 100x, non hanno voluto, tirar fuori foto, che sono inguardabili, fermarsi al 25x, e farlo bene, altri due scatti, con poca luce, e finalmente, un trattamento, superficiale, delle lenti, anti flare, questo era un po' un difetto, degli iPhone, quando si facevano fotografie, con poca luce, dove c'erano dei punti luminosi, tipo qua, questo faretto, veniva sempre, raddoppiato, o triplicato, verdino, scuro, un po' si vedeva, il punto di luce, in realtà, questa, problematica, non c'è più, e guardate, che bello scatto, ha tirato fuori, qua, di notte, insomma, foto, ottime, sicuramente, top camera, phone, se la gioca, con qualche, top android, per le foto, per i video, è sicuramente, il re, indiscusso, l'audio, ottimo, avete sentito prima, la chiamata, adesso vi faccio sentire, la canzone di test, perché ha, sia alti, che bassi, e, si sente, molto bene, volume alto, bello pieno, si sentono i bassi, conclusioni, attenzione, perché il pro max, da 256, quest'anno, costa 1489 euro, quindi 150 euro, meno dello scorso anno, e lo sconto, generalizzato, di circa il 10%, è un fil rouge, della linea 2023, l'abbiamo visto, anche sulle cuffie, bene, anche su iphone 15, quindi, molto bene tutto, sarà il mio, camera phone, 2023, per i video, è pro, è vero, è inutile, probabilmente, al 90% delle persone, che non potrebbero, magari sentire, o che non noterebbero, differenze, dai precedenti, ma, non ditemi, che è uguale, al 14 pro max, o meglio, lo è, se ne fate, un uso, basic, in questo caso, come c'è l'inizio, un 12, o un 13, che ancora a listino, rimangono, perfetti, e dei best buy, ma qua, con queste modifiche, che non sono sostanziali, ma comunque, migliorano l'esperienza, d'uso, soprattutto per un pro, le novità, ci sono, e lui, è veramente, un gran, bello smartphone, non ti preoccupate, che tra qualche giorno, arriverà anche la recensione, di iPhone 15 liscio, che è per un pubblico, un po' più, mainstream, e voi, fatemi sapere, cosa pensate, qua sotto, nei commenti, alt, fermi tutti, mi sono dimenticato, due cose, la prima, è, perché election button, mi è piaciuto, così tanto, beh, io l'ho abbinato, al fatto che, apro la videocamera, schiaccio, e parte la registrazione, ma vabbè, io perché faccio questo, in realtà, è implementato benissimo, meglio, che su qualsiasi altro telefono, perché, molto semplice, l'action button, può essere abbinato, a tante cose, ma questa è game changer, ovvero, al comandi rapidi, e i comandi rapidi, possono essere personalizzati, nell'applicazione, comandi, in milioni di modi, cioè io schiacciando questo pulsante, posso per esempio, aprire la Claire del box, ma posso fare azioni infinite, basta andare in comandi, e decidere cosa fargli fare, e poi l'altra cosa, invece che, non mi è piaciuta, è la nuova cover, esce di scena, finalmente, quella in pelle, entra in scena questa, cioè sembra che arrivi dagli anni 70, forse anni 80, no, anni 60, vellutino dietro, bruttissimo, secondo me diventa lucido, in tempo zero, e parte laterale, che non convince, raga, non convince, molto meglio, quelle in silicone, che invece sono carine, anche come, touch and feel, vabbè, scusate, sapete che non taglio i miei video, mi rilassate di dire queste cose, vi risaluto, ciao, 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 e, ciao, Grazie a tutti.